Pam, schianta tutto Scusa un bambino di 6 anni sul monitor ma va bene così Ok Senza cazzo, cioè proprio li prendo Li ammazzo tutti Cioè io gioco a cazzo, me ne frego Il comportamento maturo che hai avuto nei miei confronti, bastarda Ciao a tutti nini, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua su Call of Duty Black Ops 3 Con il gioco delle armi Cosa che come a volte, come te, te, te Cosa che ho portato anche altre volte Che dove ho sempre vinto o prevalso in maniere epocali Tranne forse una volta Lo dissi già a tempo qua, potrebbe essere anche una serie Arrivare a cercare di fare almeno 30-0 Almeno poi 30-0 O entro ogni partito ci creiamo di migliorarci Ah, se per caso mentre gestivo lo vedete del sangue sulla mano È perché lavorando all'aperto io Con il freddo mi si scarpano le mani E dovendo mettere spesso la mano nell'acqua Magari per pulire il banco o cose simili Acqua, freddo, pam, schianta tutto E comunque oggi tipo alle 13 Oppure alle 16 uscirà Non so che uscirà questo video È uscito un video di Clash Royale Il nuovo gioco della Supercell Che vi assicuro non c'entra niente con Clash of Clans Se non per le truppe sono identiche Però il punto è che è proprio un altro gioco C'entra proprio con il cazzo Anche quello è più o meno un senza tagli Almeno credo di montarlo in questa maniera Quindi vi invito a darvi una possibilità Poi se non vi piace Ditemelo nei commenti O lasciate un non mi piace a quel video Fate come vi pare Eccoci subito in partita ragazzi Direte voi no? Ma un'altra volta Fringe Anche nell'altro gioco dell'arma era Fringe Ed effettivamente non posso darvi torto Cioè quello lì è andato a dritto Cioè ho detto vabbè lo ammazzerò E invece no? Che poi in questi giorni Che sto lavorando come uno schiavo Bastardo Vaffanculo Ho perso anche un sacco la concentrazione A giocare a questo gioco E non è che non riesca a giocare Ma non riesca a concentrare Mentre gioca a questo gioco Quindi arriva qualcuno sicuro Come l'aceto balsamico Modena ponti Allora arriva da qua E vabbè dai Io sono l'unico stronzo Ad avere ancora una pistolina Vabbè ragazzi Come adesso dobbiamo fare Tutta una tirata Andare a dritto E spaccare il culo a tutti Come sempre Come sempre ho detto Ricordiamoci il come sempre Ok da qui spunta qualcuno No 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 Spunto io qui Non c'è un cazzo No Vabbè Cioè lui è sponato lì No lui era lì fermo A girarsi il cazzo Qui c'è qualcuno Qui c'è roba Qui c'è roba No ragazzi No non posso giocare così Cioè Hanno tutti da superarmi C'ho ancora la pistolina Ma che è sta roba Oh 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 Mori Mori Oh oh non muoiono Non muoiono Oh Una kill l'abbiamo fatto Una kill l'abbiamo fatta ragazzi Allora se Questo è vinco Questa partita Dovete lasciare 3000 like Perché guarda ragazzi Non è che è impossibile Ma non è facile Diciamo Visto che stiamo sotto di 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 500 mila Lui con la pistolina Mi one shotta Io prima con la pistolina Non facevo la kill Manco per il cazzo Va bene Sputavo un bambino Di 6 anni sul monitor Ma va bene così Ah No ragazzi Non riesco a concentrarmi È una cosa terribile Allora Ora starò in silenzio Vedrai Vedrai se mi concentro Vedrai Basta Basta Allora ragazzi 100 a 3 L'obiettivo Adesso non è fare 30 a 0 Anche perché la vedo Abbastanza dura Ma l'obiettivo ragazzi È diventato adesso L'obiettivo Non l'ho one shotta Ti rendi conto Ma l'ho one shotta 2742 volte Oh ma No ragazzi Ma la gente mi fa incazzare A me la gente mi fa incazzare O me le bestie Poi dopo mi dice Ma sei attivo alle persone È un pochino sì Oh guarda Ho one shottato Poi chi c'è qua Chi c'è Bambinelli Bambini Bambinettini E vabbè Ti pareva strano Ti pareva strano Non lo one shotassi Eh vabbè Lui però mi one shotta Eh Attenzione Però comunque ho recuperato Un bel terzo ragazzi Un bel terzo di punteggio L'abbiamo recuperato Quindi adesso Dobbiamo stare attenti qui Ok Ok da dietro Da dietro Percuriamolo Percuriamolo Ok l'abbiamo killato Ok adesso qui c'è qualcuno C'è roba C'è roba C'è roba C'è giù in fondo Ok Che verso era Aiuto 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 Kill kill Ok l'abbiamo ucciso Anche a lui Anche lei Oddio ragazzi La remuntata La remuntata Ce l'abbiamo solo noi Duda Duda La remuntata Ce l'abbiamo solo noi Duda Sono morto Sono morto Comunque ho recuperato tantissimo Ovviamente non vinceremo Perché il primo sta già a 18 kill Ma probabilmente ci proviamo sempre E comunque Ora la gente magari se la smettesse di one shotarmi Farebbe anche un favoretto Più che altro Col fatto Cioè Non dovrebbe essere c'è la minimappa Che tutti la conoscono Cioè Che tutti la conoscono Che cazzo sto facendo Sbucci Questo è difficile È difficile Ok lo scemo l'abbiamo fatto E vabbè dai Vabbè dai Comunque sono arrivato terzo Cioè nonostante io Nonostante io Abbiamo fatto cagare La partita Perché sono partito 0-7 Sono arrivato comunque terzo Quando il primo Era già a 14 Io ho fatto la prima kill Forse era a 10 Comunque sia Insomma 10 a 0 Non è che era proprio partito bene la partita Sono arrivato comunque in classifica La prossima Perché ne faccio sempre due giochi Di tutti I giochi delle armi La prossima arriviamo Quindi per forza Senza cazzo Cioè proprio li prendo Gli ammazzo tutti Aquarium Le mappe belle A parte le mappe belle Ce ne sono un po' In questo modo Secondo me il gioco in sé È bello Le mappe non mi entusiasmano molto Però se io continuo a giocarci A occhio Le mappe sono influenti In tutto questo Quindi probabilmente Mi piacciono le mappe Senza che lo sappia Figuratevi come è avanti Il mio cervello La prima cosa da fare È andare a dritto Io non lo voglio Quello lì in basso A destra Vedete Perché quello lì Mi caga in faccia Se lo attacco Quindi Ebbene vada a dritto E provi a smetterla Di dare la schiera All'emico Ok Qui Qui c'è già roba Da qui si può entrare Oh da qui si può entrare Oh guarda lui Lui non ma Cioè vabbè La gente La gente che gioca Questo gioco dice Io gioco a caso Cazzo me ne frega C'è un FK tra l'altro Quindi abuse di AFK Cioè Poi c'è un FK Ho detto io Ok Kill kill Ok Qui qui si punta lì Si punta lì E l'abbiamo ucciso anche a lui Attenzione Ok Super forti Sempre forti Sempre Forti Qui c'è uno Lì lì c'è uno Lì c'è uno Ok Uno Un colpo ragazzi Un colpo andato al segno Boom Manca il secondo No Vabbè dai Questo era difficile Da fare Allora il primo colpo Era che quello lì È stato incredibile comunque Cioè l'uno aveva visto Ha detto io ti ammazzo Io ho fatto No te non mi ammazzi Te non me tocchi Manco me sbaglio Dove cazzo Lui è andato via Qui 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 Oh ma la gente Ma dove cazzo abita Boom L'abbiamo sdrenando Ok Che cazzo è No raga C'ho paura Ah Dio Madonna mia Ok Ok Vabbè me la sono cercata Scusate Ero un secondo concentrato Per cosa non ho parlato Scusatemi Scusatemi Ok Qui c'è Qui c'è roba Il punto è Quanto è vicina Questa roba Da qua Qua La Su No 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 Ok L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Scappa 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 Ok siamo scappati Siamo In una safety zone Lei non proprio Te non sei tanto safety Te lo dico io Te lo dico io Che non sei tanto safety Oh l'ho killata in un colpo Ovviamente l'ho killata in un colpo Cazzo Cazzo Uh L'abbiamo ucciso Attenzione Attenzione Adesso U U U Killata anche lei Adesso HV30 Di qua Non c'è più un cazzo di nessuno Allora di qua Lì là Lì lui Killalo Killalo Killa lui C'è proprio tanto Oddio Questo ha fatto il fenomeno Cioè ha fatto il fenomeno Sono un coglione L'ho iniziato a saltare Con un cazzo di coniglio E l'ho mancato 2400 volte Lui dietro di me Che fa Oh mi uccide Mi uccide Con l'aria Io mi ho preso comunque Già del danno Non mi cado da cosa Perché tanto So che le risorse Di questo gioco Sono infinite Quindi non faccio domande A riguardo No Raga Io mi sto alterando Ero partito alla grande In pompa magna Lo sono ancora Perché sono ancora primo Però dettagli Adesso questo qua Chi lo uccide Gesù bambino E vabbè Cioè lego la pistolina Ha detto Io vado a uccidere Sbush Io non me ne frega un cazzo niente Ma io uccido Sbush Bravo Bravo Complimenti Complimenti Che comportamento maturo Che hai avuto nei miei confronti Bastarda Adesso ti uccido Ora sei morto Sei morta Sei morto E la madonna Cioè Vabbè Stessa arma Vabbè Lasciamo fare Stessa arma Stessa arma Killiamolo No eh No eh Killiamolo Ok E l'uno è andato Te Te sei troppo lontana Quindi da me perdi Per forza Dai Sceva Sì vabbè Lo sceva da quella distanza Con questo mirino È tipo qualcosa Non di imbarazzante Di imbarazzante Qui Che roba c'è No 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 Metti fuori la testa Metti fuori la testolina E vabbè Dai Cos'è Un cecchino Quel coso lì Eh Kribius Qui devo stare tipo così A mirare fisso Perché le maiala Se no Se no le kill le faccio Un giorno di mai Di mais Le faccio Un giorno di mais Ok l'ho killato Mi giro adesso Ok anche l'ho ucciso Bene 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 Ok adesso siamo entrati In zona calda ragazzi In zona calda Perché Queste kill Sono tante E poche allo stesso tempo Ma Vaffanculo Che cazzo sto dicendo Non ho perso la ragione E va bene così Senza Calori Qua Qua c'è gente Eee L'ho uccisa così Dal niente Devo fare un quick scope Incredibile ragazzi Pum Bello questo Bello Mi è piaciuto sto quick scope Guarda sbucci Ti voglio proprio negli air flex Dopo sto So quick scope Che volta l'altro ho detto Ho detto abbattuta Mi hanno cercato anche negli air flex Ma Stavo scherzando ragazzi Non Non vi allarmate Non mi cercavo in nessun clan Tranquilli Di sniper poi Pum Se cazzo Via 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 Ora se ci gira Pum Madonna mia Se lo prendevo così La prendevo così Pum No Cosa No 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 Che è sta mafia No 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 Vabbè L'ho sparato Cioè vabbè Il colpo di questo bazooka È il più Scoordinato Della Della storia Delle Bum Muori Ho chiaro il coltello Ho il coltello Devo stare attento Devo stare attento a quel che faccio Ok Qui si hanno più visto Aspetta dietro Il muro Ok Si fa così Si vabbè Dai Ti fareva il cecchino Trovato contro E mi spara Mi spara Tipo a quickscope Mi spara Boom E il coltello è andato Ora siamo a pugni ragazzi A pugni Le maiala A pugni ragazzi Le è veramente Veramente Tosta Boom Ok boom Uh Oh no Me l'ha rubato No Me l'ha rubato No Me l'ha rubato No vabbè Questo ragazzi Rientra nella storia Nella storia No Oddio L'ho sciuttato Ma che cazzato Ti ho dato Avete visto che bomba PEM Una fucilata Incredibile Ma comunque Adesso andiamo ad analizzare Perché Cioè io qui non so Se l'hanno colpito Forse si l'avevano colpito Vedi Guarda Guarda il destro PAM Madonna mia Anche l'altra volta Uguale Poi lui col coltello Rischiava di ammazzarmi Guarda Mi incazzano Perché coltello contro pugni Vince coltello Poi lui vengono i pugni E poi vince Al posto mio Torni il culo Sai ZA 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 Perché quando è nato Questo minigame Ovvero il gioco dell'Avi E' nato su Black Ops 1 E non negatelo E serviva a fare le scommesse Perché in Black Ops Servivano i soldi E con i soldi Compravi le armi E le classi E cazzate varie E potevi fare le scommesse Tipo scommetto 2000 soldi E ne vinco 10.000 Cosa è a caso E c'erano questi minigame Qui per fare male soldi Roba bellissima Poi erano tutti i minigame Divertentissimi L'età della pietra Questo Quell'altro Roba fighissima Pazzesco Comunque nini Questo è la fine del video Spero che vi vi sia piaciuto Lasciate un bel mi piace Un commento Una condivisione Un'iscrizione al canale E chi più ne ha Più ne metta Noi ci vediamo appunto Al prossimo video Per questo video Era tutto Ciao nini 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 Ciao nini